ciao a tutti carini poti oggi volevo parlarvi di una beauty influencer di nome nicole pallado o pallado non so se pronuncio giusto scusate la mia ignoranza in fatto di beauty come sa se qualcuno sa io non amo per niente i trucchi sono molto basica tanto è vero che non so se la mia cugina roberta adottiva sta guardando questo video dicevo a lei che le mie palette si chiamano paleolette sono vecchissime me l'ha regalata un fidanzato che avevo 25 anni le uso ancora pensate voi come sto perché una beauty influencer mi chiederete ma perché mi è successa una cosa curiosa allora io non guardo mai le analytics di youtube sui miei video quasi mai perché mi tengo fuori da questo sessioni di numeri views cose così ma notavo che youtube mi dice che dopo un video di nicole pallado consiglia uno dei miei sulla muliglia nervosa vado a vedere si tratta di un video di nicole dove parla della sua esperienza di due anni con la muliglia nervosa vi metterò il link di questo video qua sotto ma soltanto per il titolo andare a vederlo si chiama bulimia video serio allora faccio una piccola premessa nicole pallado è molto fatti mi sono un po' detto vabbè è una ragazza molto molto giovane perché ha circa credo 25 anni e parla di tutt'altro youtube e su instagram si occupa di make up ed è una beauty influencer parecchio conosciuta io la conosco già perché due anni fa è apparsa sui giornali locali lei deve essere veneta anche un po' della pronuncia ed ha creato un po di così di polemica perché ha fatto delle procedure dei trattamenti non invasivi ma trattamenti come filler o quant'altro al viso oltretutto adesso è molto famosa su youtube ha migliaia di follower e anche su instagram credo molto di più deve essere anche molto brava nel suo lavoro come beauty influencer comunque come make up artist e ho visto che apparsa anche dalla d'urso sempre a parlare delle dei trattamenti diciamo che ha fatto al viso di vino filler di filler quant'altro allora io ammetto mio malgrado ammetto che era un po prevenuta ad andare a vedere il suo video perché dicevo è queste belle ragazze influencer che parlano dei loro problemi alimentari spesso sono non lo so video quasi superficiali oppure questa era la mia idea stupida perché sono sono sincera e vi consiglio a tutti quanti di guardare questo video perché parla della bulimia nervosa in maniera molto profonda molto umana e il ringrazio quindi nicole del bellissimo video è lungo perché dice per filo e per segno come lei si sentiva con parole molto toccanti riconosco che dietro l'influence dietro la persona pubblica insomma ormai ha un seguito non indifferente c'è una ragazza che mi fa tenerezza rivedo qualche cosa della mai giovane perché quando lei racconta certi episodi ovviamente soprattutto quegli episodi tristi del bagno del voler rimanere da sola col cibo quant'altro rivedo me e tante si riconosceranno per cui guardate il link qua sotto andatevi a vedere il video nicole dice che è arrivata la bulimia nervosa guardando uno di quei blog dove si parla di bulimia e dove le ragazze incitano il blog proama proana pro mia si chiamano tremendi che credo adesso siano anche fuori legge in cui si glamourizza proprio gli studi alimentari lei ha visto uno di questi video ha provato e ha continuato poi per due anni io non smetterò mai di dire quanta quanta quanto ci facciamo influenzare da queste dal web perché o comunque dai dalle persone che ci stanno vicino e fanno cose così perché quando io ero giovanissima non si andava su internet ma mi ricordo che persone che studiavano con me io ero a londra all'epoca parla erasmus parlavano proprio di bulimia di quanto fosse figo fosse cool per i giovani diventa certe volte purtroppo un lito di passaggio tanto è vero nicole dice che si sentiva stupida a non fare quello che consigliavano appunto in questi blog a se tu mangi tanto e dopo non vai a vomitare sei sei stupidina e da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo con lei quindi questi 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 blog vanno sono stati messi fuori legge vanno segnalati perché veramente sono un incitamento dei comportamenti mostruosi però quando nicole dice no non è colpa dell'influencer non è colpa dell'influencer se le persone poi diventano sviluppano disturbi alimentari su questo io non sono d'accordo perché la società ci impone un modello a cui aderire che esula poi dagli influencer no allora io questo video sarà da un lato per dire grazie nicole del suo contributo dall'altro vorrei un attimo un po criticarla un po un po tanto perché vedo delle cose che forse lei ma è più giovane insomma rispetto a me forse ha sicuramente meno anni dal punto di vista anagrafico quindi vorrei dire la mia allora io non sono d'accordo con quello che nicole dice lei un influencer non è più una persona con mille follower ne ha su instagram sarà sui mezzo sul mezzo milione ha un ruolo pubblico cioè ed è seguitissima da persone credo credo giovanissime lei stessa 25 anni io penso invece l'influencer non solo abbiano un ruolo impressionante nel nel tirare del veramente influenzare i giovani ma addirittura certe volte queste queste persone qui con questi grandi following hanno hanno un'influenza impressionante a talvolta più dei politici più di persone conosciutissime pensiamo a se parla la ferragni piuttosto che fede sa i giovani ci stanno dietro quindi non venitemi a raccontare nicole non raccontarci per favore che i disturbi alimentari si sviluppano solo perché la società impone dei modelli di magrezza irraggiungibili irraggiungibili io sono d'accordo su questo punto di vista d'altra parte io credo che l'influencer abbia un ruolo in questo ben preciso se tu presenti certe immagini o certi qualsiasi cosa un influencer ti venda ti venda ok che sia un prodotto commerciale che sia una cosa che sponsorizza che sia anche un'esperienza personale o anche dei lineamenti che presenta perché nicole da questo punto di vista ci devo anche un po rendere conto io credo che abbia delle delle responsabilità grosse per quanto riguarda i giovani tanto è vero che se io avessi una figlia sarei contenta che mia figlia seguisse nicole pallado per quanto riguarda che riguardasse il video di nicole sulla bulimia non so se sarei contenta che la seguisse peraltro e adesso vi spiegherò perché allora un'altra cosa con cui sono molto d'accordo e quando nicole dice che lei ha iniziato così per gioco e poi a un certo punto si è ritrovata in un vortice in una voragine bulimica e lei la paragona all'eroina sostiene sono certa che è così che l'area del cervello che viene coinvolta quando si sviluppano queste dipendenze è similare è la stessa area delle che coinvolge la dipendenza da eroina che su questo io sono più che d'accordo con lei diventa una forma di veramente di una dipendenza quasi una droga per cui all'inizio tu pensi che inizierai a mangiare vomitare per sport e poi ti ritroverai dopo dopo poco tempo che per te la dipendenza da cibo è diventata una cosa mostruosa da cui dalla quale tu non puoi riuscire allora io trovo nicole in questo video di una grazia e di una umanità impressionante quando lei parla della sua esperienza capisco essere un'esperienza molto molto vera un'esperienza che l'ha toccata e che lei descrive molto bene non c'è nulla di falso in questa ragazza e per quanto riguarda le io ho visto solamente questo video non sono una una fan di nicole sono anche parecchio più sono più più vecchia di lei come ho già detto non amo i trucchi però vedo una grande una grande umanità una grande esperienza per certe cose per certi versi e mi ha devo essere sincera mi ha toccato quindi è un video che io vi consiglio quando lei racconta certe cose come aspettavo che mia madre uscisse il giovedì sera non vedevo l'ora di arrivare a quel momento per porti a stare da sola mangiare vomitare come un animale andare in bagno lo schifo dice descrive proprio l'atto bulimico come nessun altro visto poche influencer di calibro pochi poche blogger descrivere la bulimia nervosa in questa maniera qua è tanto vero che mi ha nicole devo essere sincera mi ha sorpreso una ragazza che sa argomentare molto bene con una sua intelligenza e lucidità per cui il mio è sinceramente è un ringraziamento sincero nei suoi confronti però d'altra parte vorrei dire un'altra un'altra cosa nicole cioè lei apre il video dicendo io faccio questo video perché voglio sensibilizzare le persone come me che sono che che sono hanno magari una debolezza in quel momento e cadono vittima della bulimia nervosa vedendo guardando un blog guarda e guardando un blog su internet e lo dice all'inizio lo dice alla fine più e più volte quindi si capisce che è una una ragazza che tutto tutto sommato nonostante la notorietà è rimasta molto vera perché dice alle persone di scrivere di contattarla da un numero verde si prodiga molto per i suoi follower e io sono quasi cioè sono certa a guardarla che la sua è un appello sincero e mi fa molto piacere questa cosa qua d'altra parte vedo che lo fa lo fa spesso appunto questo di dire per favore non cadeteci non cadete nella bulimia nervosa perché è come morire mi ha toccato con queste parole dice è come morire io sono d'accordo con lei però volevo fare una grande critica nicole spero lei non me ne voglia perché potrei essere sua mamma visto l'età io credo che nicole non ha detto una cosa importante che invece io per esempio ci tengo sempre a dire nei miei video il perché io mi sono chiesta tante volte perché arriviamo a mangiare vomitare perché arriviamo al fatto che dobbiamo avere dobbiamo aderire quello standard di fisico di peso perché ecco io per per me è una spiegazione di tipo familiare bullismo che ho subito ho delle mie nicole non ci dice perché arriva a questo perché si sentiva inadevuata col suo corpo però adesso farò l'avvocato del diavolo cara nicole se per caso un giorno guarderai questo video io ti chiedo sei sicura di aver risolto tu hai risolto la bulimia nervosa questo l'abbiamo capito e sono stracontenta per te che tu l'abbia risolto dopo due anni perché per come stavi potevi essere come me andarci dietro 25 anni però sei sicura di aver risolto i tuoi problemi di autostima se di questo si trattava ma forse mi parvi capire che sì che è stata una cosa di emulazione ma perché forse non ti sentivi bene perché quello che emerge da dal tuo dai tuoi contenuti è che tu forse hai trasferito il tuo problema di autostima il tuo problema col tuo corpo da dal tuo corpo al tuo viso io lo dico perché questa è una mia impressione però guardato fatto delle ricerche su nicole e credo che sia l'impressione di tante persone che la vedono immediatamente mentre per la bulimia nervosa non riusciamo vedendo nicole non si riesce a capire ce l'ha raccontato lei e ci crediamo siamo contenti per quanto riguarda non so l'essere sicura o meno del tuo corpo aver superato questi problemi di autostima io quando guardo nicole in video capisco invece che forse forse i problemi di autostima ci sono ancora solo che sono stati trasferiti come spesso succede da una dipendenza ad un'altra adesso io non sono un medico non sono una persona non sono qui per criticare lei lei come 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 persona come più che altro forse una critica veramente i modelli che poi si impongono su internet e quali poi le ragazze dovranno aderire soffrendo è perché non è una critica nicole che una ragazza molto giovane forse è entrata in qualcosa più grande di più grande di lei anche la gestione della fama la gestione di te stessa quando sei giovanissima poi rimanere vittima di queste cose però io nicole l'ha detto dalla d'urso che ha si è fatta filler probabilmente anche sul sugli zigomi non sono molto naturali il rino filler si vede diciamo che è molto è molto visibile questa cosa in viso allora io dico io ho visto tra l'altro delle foto di nicole anni addietro apparse sui giornali di lei al naturale e vi assicuro non era come ora non era come ora questo è poco ma sicuro ma era una ragazza molto bella già già da allora ma io non voglio entrare in questo discorso bella non bella quant'altro però qual è il messaggio nicole che tu dai alle persone a cui parli o meglio tu dai dei messaggi molto contrastanti perché nel video della bulimia tu stai dicendo per favore non cadeteci per favore fatevi aiutare per favore recuperate la vostra autostima quant'altro ma poi nei contenuti che tu pubblichi sempre c'è stata una trasformazione del tuo volto che è visibile che tu stessi dichiarato allora che cosa stai comunicando alle ragazze giovani perché tu nicole ai 25 anni c'è tra l'altro non credo avessi grossi difetti fisici perché ti ho vista in alcune foto di prima e dopo e dargli tuttora sei una bella ragazza però devo essere sincera questi trattamenti questi questi queste queste filler che hai fatto al viso si vedono sono molto lampanti io li comprendo di più quando vedo persone che così stanno forse invecchiate si vedono invecchiate cioè subentrano altre problematiche forse riesco a capire di più che intervengano sul loro viso e non sono mai contenta di vedere quei visi stravolti dal botulino dal filler perché si assomigliano tutti perdono proprio le loro caratteristiche originali e fanno anche un po tristezza io sono la persona più rispettosa delle fragilità altrui perché io ho tantissime non so mai se le risolverò combattuto tutta la vita col mio corpo e tutti vedo che abbiamo grandi fragilità però io non ho un ruolo pubblico non sono un influencer forse i danni che che posso fare io col mio fisico ultramagro sono molto minori di quelli che può fare possono fare questi tipi di influencer su instagram e su e su su youtube ma soprattutto su instagram instagram è diventato il posto dei filtri che ci fanno apparire tutte uguali e finché un filtro per carità vabbè possa anche passare anche se instagram è intervenuto adesso quando tu sponsorizzi un prodotto non puoi usare filtri perché non sennò diventa pubblicità ingannevole ma cosa ma cosa diciamo le ragazze che invece vanno a rifarsi allora io ho visto delle mie conoscenze di facebook delle mie conoscenze molto giovani di appena 25 27 anni che si cominciano a pompare la bocca adesso finché il piccolo ritocchino di qua di là ci può anche stare rifare un naso ai miei a miei tempi c'è esisteva solo poter solo rifarti il naso e costava anche tanto per cui faceva quasi nessuno a meno che tu non fossi insomma avessi qualche migliaia di euro a disposizione e sul naso va bene potremmo discutere però è già più normalizzato ma io adesso tutti tutte le persone che vedo su instagram con le stesse facce un po la bella di un po diventano aliene che messaggio danno alle ragazze cioè il messaggio che non saremo mai 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 contente di noi stesse la nostra autostima farà sempre molta difficoltà ad adeguarsi allo standard perché perché tra l'altro è uno standard assolutamente falso non riesco neanche più a lavorare su quello che è mio devo acquisire il viso di angelina jolie devo andare a comprare il naso di kendall jenner e non sarò felice lo stesso perché l'altro giorno sarà invece la bocca di kylie jenner sua sorella ovviamente così abbiamo montato la famiglia in una stessa faccia sta diventando veramente un gioco al massacro perché io purtroppo instagram ce l'ho sul è un'app che ho che apro vado sul mio esplora e sono bombardata da queste immagini di persone con che con non solo con i filtri ma soprattutto con la chirurgia estetica raggiungono tutte lo stesso volto ed è un volto di grande con un'omologazione che è fenomenale e che elimina tutti i tratti spesso i tratti somatici che sono etnici perché quanto belle sono le ragazze orientali ma anche le ragazze arabe magari che hanno un naso un po più pronunciato adesso sono tutte tutte bellezze mettiamola così all'occidentale con questi occhi allungati con queste sopracciglia alzate con nasi piccolissimi che sono oltremodo non beritieri e la bocca molto molto sessualizzata tutte da nord a sud dalla siberia fino al polo sud tutte quante con i stessi tratti somatici e questo mi riporta sempre ad un'idea di grande globalizzazione che sta ci sta investendo in tutti i settori anche nel nostro corpo ma ripeto se negli anni settanta quando sono nata io potevi di farti il naso adesso la globalizzazione l'ipercapitalismo hanno investito il nostro volto cioè la mia faccia che la mia faccia naturale non è più di moda adesso per rispettare se se l'ipercapitalismo ci fa ci dà la possibilità di comprare un volto nuovo pezzi di volto di altre persone metterli assieme per avere il nostro volto ideale il nostro volto è come un telefono come un iphone tra sei mesi non ci piace più il naso alla francese bollo rifacciamo diverso la bocca tolgo il filler aggiungo e voglio quella di di kendall jenner piuttosto vi rendete conto della pericolosità che ha questo a livello psicologico perché io sono d'accordo con nicole si punta molto sulla bulimia su tutte le conseguenze fisiche della bulimia che possono portare alla morte ma su questo non ci piove io sono la prima a dire state lontano dalla dieta dalla bulimia quant'altro conseguenze fisiche e psicologiche enormi però vogliamo parlare delle conseguenze psicologiche di di essere messe fuori gioco da visi che adesso si assomigliano tutti e se tu non hai quel viso che è profondamente quasi solo occidentalizzato non è rimasto più nulla delle bellezze più etniche più non devono più celebrate le diversità di ognuna ma tutte diversi latitudini dobbiamo dobbiamo essere la kendall jenner di turno e lei stessa che è sempre stata una ragazza bambina carinissima carinissima vabbè io me la ricordo ricordo ho visto il prima e dopo anche di lei ci sono tante pagine su instagram che fanno la differenza tra prima e dopo aveva veramente bisogno di farsi gli occhi più sulla bocca più per sembrare una delle solite modelle standardizzate quando era bellissima non non aveva nessun bisogno ma neanche la sorella la sorella adesso mi dispiace dirlo però lei la sorella ha i tratti se si tratti che ha nicole questo kylie jenner questo nazino piccolo questa bocca molto sessualizzata l'occhio scusatemi ma voi ragazze che avete se non siete felici voi delle vostre della vostra giovinezza io so che non è facile quando avete vent'anni con tutte le le sollecitazioni della vita essere contenti lo so perché non lo ero neanche io piangevo in continuazione ma io ve lo dico adesso che ne ho quasi 50 non godetevi la bellezza dei vostri vent'anni che anche la bellezza della freschezza di un viso di una pelle che quella è quella è una cosa è una meraviglia una cosa da celebrare anche la diversità cioè la vostra bellezza ce l'avete già che è la freschezza dei vent'anni e non solo quello a livello psicologico tutta la vita davanti perché andare a distruggerci lineamenti per sembrare delle bambole gonfiate lo dico senza offesa tutte uguali quali sono le conseguenze psicologiche nicole dei visi che voi ci propinate su internet alle ragazze più giovani perché io me ne vedere queste persone sempre con lo stesso questa bocca una faccia da chiudo così così e non parlo di nicole ma su instagram sapete cosa faccio io ho chiuso instagram in pandemia io l'ho chiuso perché non volevo più essere bombardata da certi tipi di vita lifestyle che sono sempre quelli della barca della macchina ne avevo due palle piene ma non solo avevo anche due palle piene di tutti questi filtri che ormai girano incontrastati e anche di questi visi uno uguale all'altro per farmi sentire insicura quando io devo essere sincera col mio viso grazie a dio non ho mai avuto nessun problema e posso dire che conosco anche delle persone che in realtà che io stimo tantissimo che non si sono mai rifatte e quelle vanno benissimo così perché dobbiamo andare a rompere le palle ai giovanissimi e dire ah ma se tu puoi rifarti tu puoi cambiare il tuo volto se non ti piace lo fai lo fai ti compri il naso di angelina gioli allora noi ve lo dico c'è la pericolosità globale non è solo questa a livello individuale proprio a livello di società sono una società mai contenta che adesso avremo il diritto di cambiare tutto di noi non ci piace una cosa non l'accetteremo mai andremo avanti cioè ogni ogni due mesi io vorrò la puntura di bottulino la puntura di filler e lasciamo stare i dispendi cioè io ripeto se avesse una figlia di vent'anni che mi viene a chiedere il naso nuovo e questo vabbè il naso te lo regalo perché il papà te lo regalerà a natale e la bocca vabbè la bocca te la regaliamo ti scegli da catalogo e vabbè e dopo di che cioè e non è solo una questione di soldi cioè noi facciamo i favori non sono complottista ma noi facciamo veramente i favori dell'ipercapitalismo che si augura sempre nella produzione di ormai la produzione di beni ha veramente raggiunto livelli fenomenali e non si può permettere che un bene sia durevole per tutta la vita mio naso non può durare per tutta la vita così come la mia bocca no me la deve devo comprarmi la bocca più grande più piccola noi facciamo veramente i favori dell'ipercapitalismo che celebra la caducità delle cose le cose durano pochissimo dopo andremo a cambiarle con un iphone io lo faccio posso farlo col telefono e anzi vorrei voglio farvi vedere il mio primo telefono ve lo faccio vedere perché in realtà dove cavolo è finito il mio Nokia ha incarico vabbè il mio primo telefono è un Nokia orripilante che mi servirà per tutta la vita io certe volte vado contro queste queste vabbè un mio queste queste logiche ipercapitalistiche però mi può andare bene con un telefono mi può andare bene con un auto che dopo si autodistrugga dopo un anno perché tu hai deciso che vuoi che ne compi un'altra però non mi va più bene con la mia faccia Nicole te lo dico io parlo come da sorella maggiore e noto che tu hai una grande influenza perché ho visto tantissimi commenti sotto il tuo video e non so se tu puoi tornare indietro dalla tua vita cioè non so se tu puoi tornare indietro dal tuo volto perché ormai stai bene così probabilmente ti senti bene così spero solo che ti fermi qui perché Nicole tu per mantenere quel viso hai bisogno un bisogno costante di filler di botulino potrebbe questo cioè può essere che tu abbia un problema psicologico sotto lungi da me da darti una diagnosi online assolutamente non però ho questa la mia sensazione se non è stato non abbiamo sempre parlato di bulimia nervosa anoressia binge eating non si è mai parlato di binge feeling però io credo che prima o poi verrà fuori anche questo questa problematica qua il bisogno costante di ricorrere a procedure cosmetiche allora se io lo faccio una volta ogni tanto perché ho 50 anni che ne so il piccolo ok però si diventa una cosa che va che io comincio a fare da quando sono giovanissima lo devo fare ogni due mesi perché sennò non mi sento più bene con me stessa sennò il labbro torna normale o quant'altro questo potrebbe essere un grande problema allora mi appello a tutte le influencer che sono su anche a instagram perché instagram è un grande c'è instagram può fare una deregulation su questa cosa qua far tornare indietro le influencer o comunque mettere dei paletti perché ormai vediamo tutte queste persone che che bella dita ma sembra certe volte era di una bellezza incredibile a certe volte ha dei tratti alieni è comunque una bellissima modella che si merita al successo che ha la sorella non mette non sono qua per criticare per discriminare questo no però certe volte ha dei tratti alieni che io sì mi hanno fatto passare proprio la voglia di andare su instagram ed è veramente un monito alle influencer invece di di scatenarsi con